mi pare che non ci fosse detenuto che in quell'occasione non gli battesse sul collo o non lo accarezzasse sul muso in quello stesso giorno nietzko fu attaccato perché trasportasse l'acqua e tutti stettero a guardare con curiosità come il nuovo nietzko trasportò la sua botte il nostro portatore d'acqua roman gettava delle occhiate al nuovo cavallino con aria oltremodo presuntuosa era quello un contadino sui 50 di carattere taciturno e posato del resto tutti i cocchieri russi sogliono essere di carattere oltremodo posato e perfino taciturno come se fosse proprio vero che la continua dimestichezza coi cavalli conferisce all'uomo una certa speciale serietà e persino gravità roman era quieto gentile con tutti e di poche parole fiutava il tabacco del suo cornetto e si occupava costantemente da tempo immemorabile dei nietzko del reclusorio quello di nuovo acquisto era già il terzo da noi tutti erano convinti che per il carcere ci voleva un cavallo dal mantello baio che questo si confaceva alla casa così affermava anche roman un cavallo pezzato per esempio non avrebbero comprato per nulla al mondo il posto di portatore d'acqua era sempre riservato in base a non so qual diritto a roman e da noi nessuno avrebbe mai neppur pensato a contestargli questo diritto quando era accaduto il precedente nietzko a nessuno nemmeno al maggiore era venuto in mente di incolpare di alcunché roman si era compiuto il volere di dio e basta e roman era un buon cavallaro ben presto nietzko divenne il beniamino del reclusorio i detenuti pur essendo gente ruvida si avvicinavano spesso per accarezzarlo accadeva che roman di ritorno dal fiume chiudesse il portone che gli era stato aperto dal sotto ufficiale e nietzko entrato nel carcere se ne stesse fermo con la botte ad aspettarlo sbirciandolo con gli occhi fattene solo gli grida roman e nietzko subito va avanti solo arriva alla cucina e si ferma aspettando che le sguattere e i portavigonci vengano a prendere l'acqua è giudizioso nietzko gli gridano la portata da sé è ubbidiente beh infatti è una bestia ma capisce bravo nietzko nietzko scuote la testa e sbuffa come se veramente capisse e fosse contento delle lodi e qualcuno senza fallo gli porta subito del pane e sale nietzko mangia e torna a far cenni con la testa come se soggiungesse ti conosco io ti conosco io sono un caro cavallino e tu sei un bravo uomo anche a me piaceva portare del pane a nietzko si provava anche di gradito guardando il suo bel muso e sentendo sulle palme le sue labbra molli e calde che agilmente tiravano sull'offerta in generale i nostri detenuti sarebbero stati capaci di voler bene agli animali e se fosse stato loro concesso volentieri avrebbero allevato nel reclusorio una quantità di bestie domestiche di uccelli e mi pare che cosa più di questa occupazione per esempio avrebbe potuto radolcire ingentilire il rude brutale carattere dei detenuti ma questo non era concesso né il nostro regolamento né il posto lo permetteva nel reclusorio durante tutto il tempo che ci fui io soggiornarono però casualmente alcuni animali oltre nietzko ci furono da noi dei cani delle oche il capro vasca e ci visse per qualche tempo un'aquila come cane permanente del reclusorio viveva da noi come già da me è stato detto in precedenza pallino un cane intelligente e buono col quale io fui costantemente in amicizia ma poiché il cane in generale è tenuto da tutto il popolino in conto di animale impuro a cui non bisogna nemmeno rivolgere attenzione così anche a pallino da noi quasi nessuno badava il cane se ne viveva per conto suo dormiva nel cortile mangiava i rifiuti della cucina e non destava particolare interesse in alcuno conosceva tutti però e nel reclusorio considerava tutti quanti come suoi padroni quando i detenuti tornavano dal lavoro esso al grido che risuonava presso il corpo di guardia caporale già correva al portone accoglieva festosamente ogni squadra scodinzolando e guardava amorevolmente negli occhi chiunque entrava in attesa di qualche carezza ma nel corso di molti anni non aveva mai ottenuto una carezza da nessuno fuorché da me per questo appunto mi amava più di tutti non ricordo poi in qual modo fosse comparso nel nostro carcere anche un altro cane belka il terzo kultiapka lo alleva io stesso dopo averlo portato un giorno dal lavoro ancora cucciolo belka era una strana creatura qualcuno gli era andato addosso col carro il suo dorso era curvato all'indietro così che quando correva da lontano sembrava che corressero non so quali due bestie bianche fuse insieme inoltre era tutto tignoso con gli occhi suppuranti la sua coda era spelacchiata anzi quasi priva di peli e continuamente levata in alto offeso dal destino evidentemente aveva deciso di rassegnarsi non abbagliava mai contro alcuno e non brontolava mai come se non osasse viveva cibandosi di pane per lo più dietro le baracche se gli accadeva di vedere qualcuno dei nostri subito ancora parecchi passi di distanza si rovesciava sulla schiena in segno di sottomissione fa di me quello che ti garba pareva dire ma io come vedi non ci penso neppure ad oppormi e ogni detenuto davanti a cui facesse la capriola gli dava un calcio con lo stivale come se vedesse in ciò un suo assoluto dovere ma belca non osava nemmeno guaire e se il dolore era stato troppo acuto uggiolava solo in tono soffocato e lamentoso allo stesso modo faceva la sua capriola anche davanti a pallino e a ogni altro cane quando correva per i fatti suoi fuori del reclusorio soleva farla e poi starsene disteso quieto quando qualche grosso cane dalle orecchie pendenti gli si gettava addosso col muso latrando ma i cani amano nei loro simili la pacatezza e l'umiltà il cane inferocito si raddolciva immediatamente si fermava un po' meditabondo sul docile cane che gli giaceva dinanzi con le zampe in alto e lentamente con gran curiosità cominciava ad annusarlo in tutte le parti del corpo che poteva pensare in quel momento belca che fremeva tutto e se ora il brigante mi desse una zannata gli passava probabilmente per capo ma dopo averlo fiutato attentamente il cagnaccio infine lo lasciava stare non trovando in lui nulla di particolarmente interessante belca subito balzava su e tornava a gettarsi zoppicando dietro la lunga fila di cani che accompagnavano una qualche cagnetta nera e pur sapendo di sicuro che con la cagnetta non avrebbe mai fatto intima conoscenza tuttavia anche soltanto zoppicarle dietro da lontano era per lui una consolazione nelle sue sventure agli onori evidentemente aveva già smesso di pensare perduta ogni prospettiva di carriera non viveva che per il pane e ne aveva piena consapevolezza io mi provai una volta ad accarezzarlo ciò gli riuscì così nuovo inatteso che un tratto si accovacciò al suolo con tutte e quattro le zampe e si mise a fremere tutto e a accarezzavo spesso esso in cambio non poteva accogliermi senza guaiti se mi vedeva da lontano cominciava a guaire e guaiva dolorosamente in tono lacrimoso finì che altri cani lo sbranarono fuori del reclusorio sul bastione di un carattere tutto diverso era cultiabca perché io l'avessi portato cucciolo è ancora cieco dall'officina nel carcere non so mi faceva piacere nutrirlo e allevarlo pallino aveva subito preso cultiabca sotto la sua protezione e dormiva insieme con lui cultiabca fattosi grandicello lasciava che l'altro gli mordesse le orecchie gli strappasse il pelo e giocasse con lui come di solito i cani adulti giocano coi cuccioli cosa strana cultiabca non cresceva quasi in altezza ma solo in lunghezza e in larghezza il suo pelo era arruffato di un certo color topo chiaro un'orecchia gli era accresciuta all'ingiù l'altra all'insù era di carattere focoso ed entusiastico come ogni cucciolo che per la gioia di vedere il padrone di solito si mette a guaire ad abbaiare cercava di leccarvi anche il viso ed è pronto lì davanti a voi a lasciare libero corso all'entusiasmo dovunque io fossi appena gridavo cultiabca esso compariva all'improvviso da dietro a qualche angolo come di sottoterra e con stridulo entusiasmo volava verso di me rotolando come una palla e facendo le capriole per via io avevo messo a quel piccolo mostriciattolo una affezione straordinaria pareva che il destino gli riservasse nella vita non altro che benessere e gioie ma un bel giorno il detenuto neutroef che fabbricava scarpe da donna e lavorava le pelli gli rivolse particolare attenzione qualcosa lo aveva colpito a un tratto chiamò cultiabca a sé gli palpò il pelo e lo rovesciò affettuosamente con la schiena sul suolo cultiabca che non sospettava di nulla guaiva dal piacere ma il mattino dopo scomparve io lo cercai a lungo pareva sprofondato sott'acqua e solo dopo due settimane tutto si chiarì la pelliccia di cultiabca era oltremodo piaciuta a neutroef costui gliel'aveva levata e con essa aveva fabbricato e foderato un paio di stivaletti invernali di velluto che gli aveva ordinato la moglie di un cancelliere militare egli mi mostrò anche gli stivaletti quando furono pronti il pelo era meraviglioso povero cultiabca anche le oche si introdussero da noi come per caso chi le avesse allevate e a chi propriamente appartenessero non so ma per un po di tempo divertirono i detenuti e furono note perfino in città esse erano nate nel reclusorio ed erano tenute in cucina quando la covata fu cresciuta tutte quante in corpo presero l'abitudine di andare al lavoro insieme coi detenuti appena il tamburo si metteva a strepitare i forzati si muovevano verso l'uscita le nostre oche ci correvano dietro schiamazzando aprendo le ali una dopo l'altra scavalcando l'alta soglia del portello e non mancavano mai di portarsi sul fianco destro dove si schieravano aspettando che terminasse lo smistamento si univano sempre allo scaglione più grosso e sui luoghi di lavoro pascolavano in qualche sito non lontano appena lo scaglione si muoveva per tornare dal lavoro al reclusorio si mettevano in moto anche loro nella fortezza si era sparsa la voce che le oche andavano al lavoro coi detenuti beh i detenuti vanno con le loro oche solevano dire quelli che ci incontravano ma come ha mai fatto ad amaestrarle eccovi per le oche soggiungeva un altro che ci faceva lemosina ma nonostante tutta la loro devozione per non so qual rottura di digiuno le sgozzarono tutte